Va al direttore generale della Fondazione Perugia, il dottor Fabrizio Stazzi, il premio Beato Angelo 2023. Lo ha deciso la Giunta Comunale di Gualdotadino, che in virtù dell'impegno, della competenza, della professionalità e della sobrietà dimostrate per la crescita del territorio, ha deciso di assegnargli il riconoscimento istituito nel 1992, attribuito ai cittadini, alle associazioni o agli istituti di Gualdotadino, che hanno contribuito in modo significativo a diffondere l'immagine della città in Italia e nel mondo. Premio Beato Angelo 2023 alla memoria, invece, andrà a Massimiliano Rondelli, indimenticata figura che ha prestato servizio in diverse associazioni di volontariato, mentre una menzione speciale verrà consegnata al dottor Mario Micheletti, medico esempio di dedizione e servizio nei confronti dei più deboli. La cerimonia di consegna del premio si svolgerà domenica 15 gennaio, alle ore 10 presso il Teatro Talia di Gualdotadino. Durante la giornata saranno conferiti dall'amministrazione comunale due riconoscimenti a Matteo Minelli, amministratore delegato del gruppo Ecosantec S.P.A., per essere stato nominato imprenditore dell'anno 2022, e a Rocchetta S.P.A. per l'opera di aiuto alla vaccinazione svolta durante l'emergenza legata al Covid-19. Riconoscimenti sono previsti anche per Marcello Pompei e Sergio Sabatini, volontari Avis, che hanno superato la soglia delle 100 donazioni. Alle ore 11.15, nella Basilica Concattedrale di San Benedetto, verrà celebrato il pontificale presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino.